Mi è venuto un'IKEA di Pasqua! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te Questa è Arte per te Arte per te Ciao a tutti e bentrovati sul canale! Oh sì ragazzi, mi è venuta un'IKEA di Pasqua veramente low cost Con culott, che non è una brutta parola Ma sono una sorta di pietrine vetrose, specchiate di vari colori Che vengono vendute al costo di 1,90-1,99 all'IKEA Al reparto candele e fiori, perché servono appunto come riempimenti dei vasi Allora, ho pensato a delle ovette in cristallo Così da tenere tutto l'anno per casa Ma da poter regalare con cognizione di causa adesso che è Pasqua Magari a una signora un pochettino più agè A una signora adulta senza che sia agè A una persona che ha dieta e quindi non può mangiare la cioccolata Potrete comunque regalare un piccolo cadeau che sia fatto da voi Che non vi faccia spendere troppo ma che sia a carico della vostra creatività E perché no, di buon gusto Un elemento di design, un elemento di arredamento per la casa Piccolo ma davvero davvero carino E nessuno penserà mai che l'avrete fatto voi Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa Ed eccoci pronti per questo facilissimo mi è venuta un'IKEA di Pasqua con culott Allora sono queste scagliette vitre Molto molto belle Ve le faccio vedere perché sono super brillanti Sono proprio delle, le metto già qua Scagliette di vetro Visto? Queste sono a specchio e sono trasparenti Ma ci sono anche di colore rosa Di tanti colori, adesso non li ricordo tutti Ci occorrerà una confezione di culott Nel colore che desideriamo Serve anche un acrilico bianco Io qui ho il Max Acryl della Ferrario Insieme ad un bel pennello E una colla aceto vinilica Questa tipo block In più naturalmente l'oggetto Che vogliamo impreziosire In questo caso voglio fare un mi è venuto l'IKEA di Pasqua Quindi ho preso un ovetto in legno Allora, in questo caso sto usando il numero 12 Tintoretto sintetico Uso un sintetico perché ha setole flessibili Quindi, ma allo stesso tempo morbido Mi consentirà una bella pennellata veloce Senza troppe striature E anche direttamente con un colore Senza diluirlo Comincio con il dipingere tutto l'ovetto di bianco Io lo dipingo di bianco perché voglio lasciarlo con un sottotono molto chiaro Potete dipingerlo anche di grigio o di nero Verrà bellissimo ugualmente Dipinto l'ovetto lo lascio qui ad asciugare ben bene A questo punto quello che abbiamo è il nostro ovetto bianco Piano piano riempiamolo di colla Così Lasciandone un bello strato su tutto Assicuriamoci che la colla abbia creato un bello strato su tutto Quindi, casomai, un attimino col dito Stando sempre attenti che non sia troppo irritante Ognuno valuti la propria colla e la propria tollerabilità Ok, portiamo la colla su tutto Lasciamola tirare un attimo all'aria Prendiamo il nostro culotte Le nostre scaglie di vetro Versiamole Creiamo una zona d'accoglienza per il nostro ovetto Adagiamolo Impaniamolo Sì, come fosse una cotoletta Così E lasciamo asciugare Senza muoverlo Per una decina di minuti Ed ecco qua il mio ovetto mezzo pronto Rimpingo anche l'altra metà di colla Allargo un po' lo spazio E puff Rituffo E riempio Fino a colmare Tutto lo spazio Ora, non vi dirò di covarlo Ma di attenzionarlo, va bene? E allora Lasciamolo qui Ad asciugare un pochino È lontani quando usate culotte dai bambini Perché è del vetro È del vetro molto accattivante Specchiato Quindi potrebbero facilmente prenderlo Ingerirlo Oppure buttarlo per terra E camminarci coi piedini Quindi non è il caso State attenti Questo è un lavoretto Da grandicelli Da adolescenti in su Del resto delle uova di cristallo Non penso che ai bambini piacciano Lasciamo asciugare Per altri dieci minuti E poi Disotterriamo il nostro uovo Mentre attendevo Che il mio vetro Rapprendesse Qui sotto la sua montagna Di cristalli Ho dipinto Un altro vetro in nero E uno in grigio In modo da darvi Le tre differenti nuance Alla fine del video Tra le foto Il procedimento Non ve lo farò vedere Perché è sempre il medesimo Ma la colorazione Differente La noterete Proprio Sarà evidente In foto Adesso Cosa devo fare? Devo liberare Il mio ovetto Ok Tiro via L'eccesso Vedete Ancora morbido Sulla colla Quindi Con un gesto veloce Lo prendo Lo sbatto un attimo Sempre Qui Sulla Sulla sua materia E lo poggio Da una parte Senza Muoverlo oltre Sembra una polpettina In forme Vedrete che poi Dopo la spolveratura Sarà proprio Ovoidale Intanto Preparo gli altri due Ed ecco anche L'ovetto grigio Ancora Vedete È più chiaro Di quello nero Ma è più scuro Di quello bianco Ora Lo lascio asciugare Completamente Perché vedete Ancora Dei pezzi Cenevoli Così Poi lo spolvero Ben bene Ed eccole qui Le mie tre Brillantissime Ovette Carinissime Da regalare Per Pasqua Ma bellissime Da tenere Come monile Tutto l'anno Ancora queste Sono un po' fresche Adesso Vedrete che Acquiseranno Sempre di più Una forma ovoidale Perché man mano Che andranno Ad asciugarsi Perderanno I frammenti Più esterni Che non sono Ben attaccati Quindi Provate anche voi A farle Con pochi euro Veramente Un lavoro Bellissimo Vi avvicino Un uovo Per farvi vedere La luminosità È veramente Un monile Stupendo Da tenere Anche sul tavolo Quando viene colpito Dalla luce Riflette Vediamo se riesco A farvi vedere Guardate Cos'è Uno scintillio Incredibile Bene Rendete la vostra Pasqua E non solo Scintillante Voi non fate Come me Prima di maneggiarle Aspettate che si asciughino Completamente E In caso Fatele anche Di diversi colori In cui Ikea Propone Coolord Io l'ho preso In questo colore Più neutro Che penso Possa Piacere A più persone Ma c'era Mi pare Rosa Verde Azzurro C'era di tantissimi colori Quindi Decidete voi Qual è il colore Che si addice di più Alla vostra casa E alla vostra creatività Un regalino Che può essere sfuggiato Non soltanto a Pasqua Ma può rimanere Come monile Perenne Per tutto l'anno Adesso vi lascio le foto Dove spero che le orette Si vedano meglio E noi ci vediamo dopo Per cacchierare un altro po' Visto che belle Le nostre ovette Di cristallo Sembrano quasi Delle gemme Strapolate Da una Da una miniera E allora A me piacciono Diciamo che danno Un bel riempitivo Stanno bene Sia in case classiche Che in case Molto moderne Forse stanno meglio In case molto moderne Hanno un aspetto Così vitreo Purtroppo Il mio ovetto base Aveva una forma Un po' brutta O blunga Però se trovate Un bello ovetto A punta Vedrete Che forma stupenda Acquisiranno Bene Unica accortezza Farli asciugare bene Prima di spolverare L'eccesso di cristallini E dopodiché Sbizzaritevi con i colori Sbizzaritevi anche Con le fantasie Perché potrete Anche magari Accorpare Due colori diversi Uno nella parte superiore Uno nella parte inferiore Insomma La creatività È la vostra Io vi ho dato l'idea E speriamo che vi sia piaciuta Se è così Regalatemi un bel pollice In su E condividete questo video Sulle vostre pagine Facebook E io ve ne sarò Eternamente grata Quindi Che dire Vi aspetto sempre Anche sul mio canale Ombretta Il mio canale di beauty E lifestyle E su Due colori una k Il mio canale di cucina Quello che ho insieme a Gabriele Mi raccomando Venitemi a trovare Anche di là Perché ci si diverte Un botto Anche negli altri due canali Non sapete che vi perdete Se non arrivate anche di là Bene Bene Basta parlare Io vi auguro Una splendida E scintillante preparazione Alla Pasqua Vi mando un enorme bacio Tanti auguri E noi ci vediamo sempre qua Per il prossimo video Da Ombretta Ed arte per te è tutto Alla prossima Ciao Ciao